Testata di Pellegri a gatti, ancora una volta il VAR fa gridare allo scandalo. Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Quella partita la Juve penso che non l'avrebbe mai vinta, ma dico mai perché non possiamo nascondere che abbiamo giocato male. L'ho detto ieri nel posto di partita, siamo stati imbarazzanti, ma ancora una volta il sistema colpisce ancora. Andremo ad approfondire bene quello che è successo. Io stamattina dovevo presentarmi col super pagellone, però come dico sempre, do precedenza agli scandali contro la Juve. Do precedenza a quanto c'è da difendere la Juve, anche questa volta la devo difendere. Ieri sera è stato il momento della critica, oggi è il momento di andare a smascherare chi vuole mascherare un sistema praticamente scandaloso. A questo punto puoi chiedere una cosa, il VAR, perché non lo tolgono dai piedi? Tanto non serve a niente. Iscrivetevi al canale perché è totalmente gratuito, sono sempre qui a difendere la Juventus nel bene e nel male. Poi lasciate un like se questo video sarà di vostro cadimento e poi commentate perché voglio sapere la vostra. Attivate la campanellina così non vi perderete mai un video. E siamo sempre live in l'esitenciario, madame e messia, e signore e signori, ma i signori quelli veri, quelli gobbi bianconeri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. A voi queste immagini. Cioè, queste immagini si commentano da sole, è solo delle immagini. Ma se andate a vedere il video, Pellegri gli ha dato una testata netta. Io dico una cosa, ma il VAR perché non è intervenuto? Semplice. Ve lo spiego io perché il VAR non è intervenuto? Semplice. Il VAR non è intervenuto perché a prendere la testata è stato un giocatore della Juventus. Semplice. Semplicissimo perché se a dare la testata era gatti, gatti, già veniva espulso prima del fischio d'inizio. Questo non c'è dubbio, perché ormai sappiamo, e lo dicevo, e lo dico sempre, e lo ripeto in qualsiasi sede vado. L'ho detto qualche giorno fa in TV. Oggi non è importante giocare bene. Oggi la cosa importante è essere più forti del sistema. E per essere più forti del sistema devi stravingere le partite. E per stravingere le partite, ragazzi, non è facile. Specialmente quando questa Juve è all'inizio. Oggi questa Juve è un imbrione. Non giustifico la prestazione. Ripeto. Ieri la prestazione è stata imbarazzante. L'Emboli rimane 20-10. La Juve quella partita non la vingeva lo stesso. Ne sono sicuro. Ma ne sono stra sicuro. Ma Pellegrin andava espulso. Pellegrin andava espulso. Ma la cosa grave è solo una. Il VAR. A che cosa serve? Se c'è il VAR per risolvere dei problemi. Se c'è il VAR che deve togliere le polemiche. Invece da quando c'è il VAR si alimentano più polemiche. C'è qualcosa che non va. Allora il sistema è del tutto ormai fallito. E questo è quello che possiamo dire. Si vede che è un sistema fallito del tutto. Perché ieri semplicemente l'arbitro che aveva visto non una testata ma un testa a testa. Il VAR doveva dirglielo. Vedi che Pellegrin gli ha ficcato una testata. Gli ha ficcato una testata a gatti. Che si è visto il movimento. E' stato proprio un movimento netto. Non è stato un testa a testa. Anzi sono rimasto sorpreso com'è che non ha munito anche i gatti. Cioè questo qua ragazzi non è una cosa che può andare avanti. Perché poi mi viene da pensare. Anche che giochi bene. Vuoi vincere la partita ma il tuo avversario viene favorito. Non vinci. C'è poco da fare. Noi attualmente ragazzi purtroppo siamo questi. Non possiamo fare altro. Ripeto. Siamo un embrione. La vogliamo giustificare così? Vogliamo dare tempo a Tiago Motta, i nuovi arrivati? Bene, diamogli tempo perché l'abbiamo già detto largamente. Aspetteremo quando poi possiamo dire non abbiamo più traguardo da raggiungere. È finita tutta. La matematica ha detto che abbiamo fallito. La matematica ha detto che abbiamo vinto. Oggi è il momento di riflettere, di dare la giusta critica. Perché la giusta critica? Vi dico la verità. Perché è inutile che possiamo dire se giochiamo male, eh beh dobbiamo aspettare. No, è giusto che man mano critichiamo per essere una critica costruttiva. Ma allo stesso tempo, allo stesso tempo come io ieri sera ho detto che oggi dovevo presentarmi con il super paggellone, il super paggellone lo ha annullato per un semplice motivo. Devo dare precedenza a queste cose. La precedenza oggi mi dice che il VAR doveva intervenire. Il VAR doveva espellere Pellegri. Un'espulsione netta. Poiché la Juve vinceva o meno, al sistema non importa niente. Non facciamo come ha detto lo scorso anno, se non mi sbaglio Rocchi. Rigore contro il Genova, rigore netto. Cosa ha detto Rocchi? No, 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 scusatemi ragazzi. Fallaccio negli ultimi secondi della partita su Ildiz. Non mi ricordo chi gli ha falciato le gambe. E Rocchi ha risposto, vabbè tanto la Juve non vinceva lo stesso. Ma Rocchi, ma che ragionamento è? Questo è un ragionamento vergognoso. Questo è un ragionamento per difendere un sistema. Per difendere un sistema contro la Juve. Cioè, ieri lo dico io stesso. Tanto non vincevamo lo stesso. Ma andando tu a Pellegri lo devi buttare fuori. Tu a Pellegri lo butti fuori. A me non me ne frega niente. Ha dato la testata e va espulso. Come quando la Juve dà delle testate inesistenti, becchia il rosso. Perché questa è la pura verità. Non venite a dire che la testata è quella di Zidane a Materazzi. No, questa è pure una testata. Questa è una testata volontaria. E andava returbita con il cartellino rosso. Cartellino rosso che non è arrivato. Vogliamo spiegazioni dal VAR. Vogliamo spiegazioni da Rocchi. Vogliamo spiegazioni dall'AIA. Dalla Serie A. Dalla FIGC. Da Gravina. Per quale motivo la Juve deve essere così danneggiata? Per quale motivo? Vi faccio un altro esempio. L'ammunizione a Bremer. Ammunizione esistente. Se ne vanno sulla corsa. Spalla a spalla. Il giocatore dell'Emboli cade per terra. Giallo per Bremer. Ragazzi, non era fallo. Pensate se era da munire a Bremer. Guardate, un fallo quasi simile di spalla a spalla. Finale di Coppa Italia. Juventus-Atalanta. Quando praticamente VAR viene scaraventato per terra. Lì neanche ci fischiano il fallo. Qui non è fallo. Al centrocampo becca perfino l'ammunizione. Gatti. Ragazzi, c'è poco da fare. C'è poco da fare. La Juve sta cercando di costruire. Sta cercando di mettersi in piedi con il nuovo allenatore. Però c'è un sistema che, secondo me, è più forte di tutto e di tutti. C'è poco da fare. C'è poco da combattere. Secondo me questo campionato è già scritto. È già scritto. Punto e basta. Io penso che la Juve per vincere questo campionato, se non fa 3-4 gol a partita, è impossibile portarla a casa. Perché cercheranno sempre, comunque, di abbatterci. Non di batterci. Perché è diverso. Perché se ci batti, è un gondo a batterci. Ancora c'è tanta differenza. Io spero che, o prima o dopo, qualcuno all'interno della Juve si faccia sentire. Parli con chi di dovere. Alzi la voce. Perché noi tifosi ci siamo resi conto, ormai in questi anni, che la nostra voce serve veramente poco. Serve veramente poco. Non c'è poco da fare. Se qui non interviene la Juventus, in primis, dall'alto, possiamo denunciare, possiamo fare esposti, possiamo fare quello che vogliamo, è tutto inutile. C'è poco da fare. Oggi il sistema ha deciso che la Juve non può vincere. Ma allo stesso tempo, voglio dire un'altra cosa. Il sistema ha deciso che la Juve non può vincere. Ma questa Juve, in queste condizioni, con questo gioco, è difficile che torniamo a vincere. Penso che ora bisogna tornare a lavorare. PSV è in dove, nel martedì. Io sarò presente, perché devo stare sempre vicino alla mia Juventus. Se domani posso, sono alla Condinassa, servizio dalla Condinassa, per stare vicino ai ragazzi, per sostenere i ragazzi. Perché io ho fatto una promessa di rimanere vicino, ragazza, alla squadra, al mister, fin quando la matematica non mi contanda a dire stagione fallimentare. Io sono sempre qui, metto sempre la faccia e difendo sempre la Juventus. Ora tocca a voi. Iscrivetevi al canale perché è totalmente gratuito. Lasciate like, commentate, fatemi sapere la vostra. Anzi, non ho fatto il super pagellone. Vi voglio prendere un migliore in gambo e il peggiore in gambo. Ve lo do lo stesso, nella speranza che chi ha visto il video, vediamo chi ha visto il video fino alla fine. Se mi dà poi, se dico bene, l'hai visto fino alla fine il video. Peggiore in gambo Dujan Vlovic, migliore in gambo Federico Gatti. Perdonatemi se non ho fatto il super pagellone, ma devo dare precedenza a questa politica, a questo sistema che vuole del tutto abbattere la Juve. Fino alla fine, forza Juventus, Iemen Nevaio, ossa benedica a tutti i picciotti. Salutiamo.